Il conflitto tra Israele e Hamas, scoppiato un paio di settimane fa, ha il potenziale di sconvolgere l'economia mondiale e addirittura portarla ad una recessione se altri paesi venissero coinvolti. Ecco, vi vorrei parlare di tutto questo in questo video. Naturalmente gli aspetti economici sono secondari rispetto alla tragedia umana di questo conflitto, dove la stragrande maggioranza dei morti purtroppo da entrambe le parti è civile. Ovviamente non è il mio ruolo darvi opinioni storiche o geopolitiche riguardo a questo conflitto e dirvi chi ha ragione e chi ha torto, come molti sto vedendo che stanno facendo su internet in questo momento. Vi offrirò semplicemente alcuni scenari economici in base all'evoluzione del conflitto che è appena partito. Il mio lavoro si occupa solo di questo. Una delle prime cose da sottolineare sono gli intricati collegamenti che coinvolgono praticamente tutto il mondo in questo conflitto. Infatti un'escalation più accentuata tra Israele e Hamas o la Palestina potrebbe portare addirittura Israele contro l'Iran, in quanto l'Iran è un fornitore di armi e denaro proprio di Hamas. Lo stesso Hamas che viene considerato da Stati Uniti e Unione Europea come un gruppo terroristico. Insomma, come vedete, da quella piccola regione partono un sacco di diramazioni politiche ed economiche. Come potete vedere, quindi, il conflitto in Medio Oriente può provocare scosse in tutto il mondo, in quanto la regione è un fornitore cruciale di energia e un passaggio ma ritmo chiave. Basta guardare, ad esempio, al passato, a quello che è successo, ad esempio, nel 1973, con la guerra del Kipur. Ecco, questa guerra, proprio sempre nel mezzo c'erano queste nazioni, ha portato ad un embargo petrolifero che ha portato danni di stagflazione anche nelle economie industriali, come ad esempio gli Stati Uniti. Oppure ancora, nel 1979, ci fu un'altra guerra, in questo caso coinvolse anche l'Iran, che provocò parecchi disagi, sempre le economie più sviluppate, in quanto anche in quel caso ci fu un aumento del prezzo del petrolio. Le guerre in quelle regioni, quindi, hanno provocato enormi impatti su tutto il mondo. Questo portò a questo, oppure questo portò anche a questo o questo. È vero che la dipendenza del petrolio e dell'economia mondiale degli anni 70 è sicuramente meno forte rispetto ad oggi, ma le preoccupazioni comunque rimangono. L'economia mondiale odierna, infatti, appare comunque vulnerabile. Si sta ancora riprendendo da un periodo di inflazione, derivante appunto dalla crisi pandemica, ed è esagerbato oltretutto dall'invasione russa nell'Ucraina dell'anno scorso. E quindi stiamo ancora vivendo tutto il periodo inflattivo che adesso si sta pian piano risolvendo, ma rimane comunque un momento piuttosto delicato per aggiungerci anche questa variabile. Ecco, mettiamoci di mezzo anche una politica monetaria che sta cercando di abbassare l'inflazione, e che ora, con un'altra guerra in una regione produttrice di energia, potrebbe riaccendere ulteriori vampate inflattive, cosa che nessuno vorrebbe augurarsi in questo momento. Le implicazioni, insomma, sono parecchio importanti. Addirittura si può arrivare ad influenzare le elezioni presidenziali del prossimo anno negli Stati Uniti, dove i prezzi della benzina sono fondamentali per il sentimento degli elettori, e in tutto ciò è ancora in corsa per la casa bianca Trump. Insomma, una personcina che potrebbe creare ulteriori squilibri alla geopolitica mondiale. Non è roba banale. Ecco, tutti questi potenziali effetti dipendono sostanzialmente da come si svilupperà la guerra nelle prossime settimane o mesi. Abbiamo davanti sostanzialmente tre scenari. Da quello più lieve, per i risvolti economici, a quello più drastico e problematico, non solo da un punto di vista economico, ma ovviamente anche bellico. In tutti questi tre scenari c'è un denominatore comune, e cioè un petrolio più caro, un'inflazione più elevata e una crescita economica globale più lenta. Ma più è la portata ampia di questo conflitto e più questi danni potrebbero essere sempre più grandi. Ecco quindi che vi racconto un po' come potrebbero evolversi le situazioni. Primo scenario. Il conflitto è limitato a Gaza. Nel 2014 c'è stato un precedente, con il rapimento e l'omicidio di tre israeliani da parte di Hamas, che ha dato il via a un'invasione di terra di Gaza, che ha causato oltre 2000 morti. Ecco, i combattimenti però in quell'occasione non si sono estesi oltre il territorio palestinese, e il loro impatto sui prezzi del petrolio e sull'economia è stato piuttosto marginale. Il problema è che il bilancio delle vittime in queste settimane è già più alto rispetto al precedente del 2014 che vi ho appena raccontato. Rimaniamo comunque in uno scenario di guerra concentrato sui territori tra Israele e Palestina. In questo caso il peggio che potrebbe succedere è un'applicazione più rigorosa delle sanzioni statunitensi sul petrolio iraniano. Cosa c'entra Iran? Beh, ve l'ho già accennato. Iran finanzia Hamas. E una sanzione di questo tipo potrebbe disincentivare Hamas nel creare un'ulteriore escalation più grande della situazione bellica. Abbiamo già visto in Russia quanto possono funzionare questi disincentivi per far terminare le guerre, quindi comunque potrebbero non funzionare. Tornando però da un punto di vista economico, se dovessero scomparire dal mercato i barili prodotti dall'Iran, ecco che la conseguenza economica potrebbe essere un aumento del prezzo del petrolio dai 3 ai 4 dollari per barile. L'impatto economico di questo scenario sarebbe quindi piuttosto contenuto, soprattutto se l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti compensassero la perdita dei barili iraniani utilizzando la loro capacità inutilizzata. In quel caso si annullerebbe anche quell'aumento di 3-4 dollari al barile che vi ho appena raccontato. Anche la segretaria al tesoro Janet Yellen ha affermato di non vedere segnali di importanti effetti a catena sull'economia in questa fase, ancora contenuta di situazione, ed è sottolineato che è di fondamentale importanza che il conflitto non si estenda. Il secondo scenario sarebbe invece una guerra indiretta. Come può diffondersi allora l'attuale conflitto che ancora rimane qualcosa di piuttosto contenuto a livello territoriale? Beh, uno degli indagati maggiori sarebbe Hezbollah, un'organizzazione paramilitare che è anche diventata un partito politico in Libia, anche questo appoggiato dall'Iran. Il simpatico partito politico con le armi ha già avuto in queste settimane degli scontri a fuoco con le forze israeliane al confine. Al momento si sono solo stuzzicati, ma l'incontro tra i dirigenti di Hamas e quelli di Hezbollah avvenuto proprio mercoledì non fa ben sperare su una de-escalation del conflitto. Se infatti il conflitto si estendesse al Libano e alla Siria, che sono nazioni che anche queste sono sostenute economicamente dall'Iran, ecco che sostanzialmente l'Israele sarebbe in un conflitto indiretto praticamente con l'Iran. E il costo economico ovviamente aumenterebbe. Anche in questo scenario di guerra indiretta abbiamo un precedente. Infatti nel 2006 c'è stata già una guerra breve ma sanguinosa tra Israele ed Hezbollah e in quell'occasione il prezzo del petrolio è aumentato di 5 dollari al barile. In questo caso, riportando a noi la situazione, secondo alcuni analisti il prezzo del petrolio in questo scenario di guerra più esteso potrebbe aumentare addirittura del 10%, avvicinando il prezzo del barile a 100 dollari. Questa incertezza geopolitica potrebbe anche rivalersi sui mercati finanziari che potrebbero subire dei forti impatti negativi. In parole povere, quindi cosa succederebbe? Beh, semplicemente l'economia globale rallenterebbe rispetto ad uno scenario base di 0,3 punti percentuali, raggiungendo una crescita economica per il 2023 del 2,4%. Si tratterebbe della crescita economica globale più debole degli ultimi 3-2 decenni se togliamo di mezzo il Covid e la crisi finanziaria del 2009. Insomma, un impatto economico piuttosto interessante. Ovviamente questa decrescita economica è guidata soprattutto dall'aumento del prezzo del petrolio che ha un impatto anche sull'inflazione, che quindi ha delle conseguenze sulla crescita economica globale. L'inflazione, ad esempio, in questo scenario aumenterebbe di circa dello 0,2% su scala globale, attestandosi su un livello del 6%, uno scenario che tutti i banchieri centrali temono con forza. Arriviamo al terzo scenario e c'è la guerra diretta, in questo caso, tra Iran e Israele. In questo contesto il conflitto sarebbe quello più catastrofico, ma, per fortuna mi tranquillizzo, al momento è anche quello meno probabile tra tutti. Ecco che, se dovesse però insaurarsi questo tipo di scenario, ci sarebbe sostanzialmente una recessione globale, un'impernata dei prezzi del petrolio e il crollo degli asset finanziari più rischiosi. In questo scenario i legami geopolitici che partono da quella regione sarebbero quelli più importanti. Infatti, come vi ho già accennato, gli Stati Uniti sono un alleato di Israele, mentre Cina e Russia potrebbero approfondire i legami con l'Iran. E c'è anche una preoccupazione che Cina e Russia possano sfruttare il conflitto nel Medio Oriente per distogliere l'attenzione alle risorse militari da altre situazioni, come ad esempio quella in Ucraina o altre parti del mondo. Insomma, non ho le competenze per descrivere nel dettaglio tutti questi aspetti geopolitici, che sarebbero anche piuttosto intricati e complicati, però capite quanto può partire da quella piccola regione nel Medio Oriente. Tutto quello che so però è che circa un quinto della fornitura mondiale di petrolio proviene proprio dalla regione del Golfo e un conflitto che coinvolge quelle nazioni provocherebbe un'impennata dei prezzi fino alle stelle. In questo scenario è sicuramente difficile che il prezzo del petrolio possa raggiungere i livelli del Kippur del 1973, situazione nella quale appunto il petrolio quadruplicò il suo prezzo. Ma se Israele e Iran iniziassero effettivamente a lanciarsi missili l'uno contro l'altro, beh, uno degli scenari più probabili potrebbe sicuramente essere quello di un prezzo del petrolio che potrebbe raggiungere addirittura i 150 dollari al barile. Oggi siamo intorno tra gli 80 e i 90, quindi capite quanto sarebbe grande l'aumento del prezzo e quali ripercussioni potrebbe avere questa situazione all'interno dell'economia globale. E voi mi direte, ma Giorgio, mi hai citato prima che Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti hanno delle riserve inutilizzate che potrebbero essere reimmesse nel mercato. Ecco, purtroppo anche in questa situazione queste scorte aggiuntive potrebbero non bastare. Infatti l'Iran ha un potere molto importante sullo stretto di Hormuz che potrebbe eventualmente chiudere. Attraverso questo stretto di Hormuz pensate che passa circa un quinto delle forniture giornaliere di petrolio mondiale. Quindi la scorta di Arabia Saudita ed Emirati Arabi potrebbe assolutamente non bastare per compensare questa perdita così importante. L'inflazione a quel punto potrebbe schizzare fino al 6,7% e scombinare totalmente i piani di rientro dell'inflazione delle banche centrali al 2%. Capite bene che questo scenario potrebbe comportare un impatto economico disastroso. Se infatti nel 2024 il PIL globale sarebbe dovuto crescere del 2,7%, nello scenario di guerra indiretta come abbiamo detto potrebbe crescere del 2,4%, quindi dello 0,3% in meno. In questo scenario più critico l'economia globale potrebbe crescere dell'1,7%, quindi praticamente perdendo l'1% di PIL globale a causa di questo conflitto con escalation così grande. Per darvi un ulteriore elemento si tratterebbe della peggiore crescita economica dal 1982 ad oggi. Insomma, capite bene quanto sia importante osservare l'evoluzione della guerra che è partita ormai dall'inizio ottobre. Ovviamente le guerre sono per loro natura impossibili da prevedere e quindi questi scenari hanno dei limiti su quanto possono prevedere. Però è importante, soprattutto per gli osservatori economici e magari per gli investitori, capire le eventuali escalation e cosa potrebbero comportare l'economia globale. Spero di avervi dato un quadro chiaro della situazione economica nel conflitto in quei territori e di avervi dato un piccolo contributo in questo senso. Io vi ringrazio. Se siete interessati ai miei servizi di consulenza finanziaria, link in descrizione e ci vediamo al prossimo video. Alla prossima! Al prossima! Al prossima! Grazie.